bene amici rimaniamo in campo ambientale dell'ecologia e vediamo un caso decisamente assurdo ve lo presento qui mi hanno fatto vedere questa foto girata tra gli amici e ho detto va bene la prima reazione è stata ma secondo me è una fake cioè è un stato costruito il computer ormai dobbiamo sempre stare attenti che con l'intelligenza artificiale anche nel campo delle immagini potrebbe benissimo essere un'immagine costruita perché la cosa è così a sud c'è costruire dei pannelli sopra della vegetazione in montagna sopra non sono alberi molto alti direi soprattutto e boscaglia o qualcosa che potrebbe essere alto un metro massimo tre metro e mezzo però è una cosa veramente assurda da dare un'immagine un'immagine fa no poi mi hanno passato anche un filmato ma guarda il di filmato già un po più difficile da taroccare vediamolo un po però non mi sembra tanto un filmato piuttosto una carrellata filmando un'immagine panoramica però vabbè su questo o cosa ho fatto ho detto vabbè innanzitutto ho chiesto aiuto agli amici su facebook ho detto che mi aiuta è vera questa immagine è falsa e beh sono venute fuori cose estremamente interessanti per cui diciamo allora ho approfondito ho trovato in che posti dove sono ma prima vediamo un attimino di fare la sigla e poi entriamo nel concreto è così allora vediamo un po il discorso ho messo la posta su facebook ho detto agli amici aiutatemi un po a capire aiutatemi un po capire se è vero o non è vero che abbiamo diciamo tutti questi questo questo caso mi sono detto da satellite si dovrebbe vedere una cosa enorme però insomma mettersi da soli a cercare in una cina immensa non a san marino ma in una cina immensa dove sono questi pannelli era un'impresa ardua però facebook ha funzionato c'è stato subito qualcuno ha detto sì l'ho trovato eccolo qua e quindi ci sono le coordinate allora adesso facciamoci un giro turistico con google earth e eccoci qua andiamo e facciamo un giro turistico partiamo da lugano dove sto trammettendo e andiamo in cina a vedere il nostro impianto eccolo qua ci avviciniamo eccoci qua siamo arrivati questi sono i pannelli allora qui non si vede la vegetazione perché perché l'immagine è taggata 19 dicembre quindi diciamo la vegetazione è spoglia però possiamo andare un po indietro e vedere l'estensione è abbastanza notevole potrei prendere il righello lo mettiamolo in in metri e andiamo da un estremo all'altro più o meno abbiamo 1500 metri 1490 metri lo spessore adesso lo togliamo lo spessore invece in questo senso è sui 400 300 metri però vedete che è a diciamo non è costante quindi non è esattamente un rettangolo di un chilometro e mezzo per 300 metri ci sono varie zone intorno ma c'è anche questa parte di che si estende su un alto versante a grandi linee fatti un po di calcoli spannometrici sono 30 ettari 30 ettari loro ho chiesto in giro bene allora se sono 30 ettari quanta 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 potenza installata si può ricavare agli amici hanno detto massimo massimo 20 c'ha gpt intervistato dice beh in condizioni normali da 20 a 60 c'è da 30 a 60 però gli amici dicono no ma così non orientati messi come capita quindi fosse un terreno pianeggiante lì poi li puoi inclinare con l'inclinazione ottimale e magari puoi anche cambiare durante l'anno l'orientamento a seconda dell'altezza del sole e allora puoi arrivare magari anche 50 60 giga ma messi così più di e tanto 20 però contro ordine sono no guarda ho trovato i cinesi dicono che produce 341 giga adesso non voglio dire 41 42 non mi ricordo però un è una bella differenza praticamente più di 15 volte tanto non è possibile non è possibile discussioni varie alla fine il l'arcano è stato risolto tutti i dati che vengono strambazzati su una produzione di 340 giga watt e riguardano un altro impianto e bene sì non c'è solo questo c'è un altro adesso andiamo a vedere non è lì vicino è a 250 km di distanza fidatevi li ho calcolati proprio con google earth adesso ci andiamo e vediamo che qui anche qui abbiamo pannelli la recitazione è brulla qui siamo alla fine di ottobre ma non so vedete anche come nell'altra immagine poi magari ci ritorniamo quasi vedono i classici terrazzamenti per l'uso intensivo delle zone non quelle troppo brulle ma diciamo quelle normali in cui si estende l'agricoltura però qui abbiamo pannelli un po ovunque distribuiti questa è agricoltura questi sono pannelli ma un po ovunque anche qui per esempio l'estensione qui è molto più grande qui si parla di circa mille più di mille ettari e quindi a mille ettari anche se qui i pannelli non sono perfettamente orientati però sembrerebbe un po meglio un po più verso sud per esempio e quando si può quindi è probabile che qui i 340 gigawatt ci siano 340 gigawatt tra l'altro è la potenza di una mini centrale cioè quelle che vengono adesso chiamati mini centrale nucleare cioè una small reaction che però diciamo come estensione non ha certo mille ettari l'estensione di un reatore del genere potrebbe essere tranquillamente mimetizzato in una di queste di queste casette ecco ma diciamo anche qui c'è un po di boscaglia comunque o sempre verdi però il resto qui estremamente brullo brullo vuol dire che qua l'ambiente è stato già sacrificato perché normalmente qui non è una zona desertica e torniamo anche all'altra a quella precedente qui siamo nelle zone tra le più verdeggianti c'è tanti sono tanti centri abitati come vedete intorno anche qui ci sono segni di terrazzamenti quindi diciamo questo sul versante verso il tramonto quindi a destra abbiamo l'est quindi dove sorge il sole sono stati orientati in quel senso messi su quel versante il versante del tramonto potrebbe essere il più caldo e viene usato invece per l'agricoltura per i terrazzamenti e sotto abbiamo tutti i centri abitati e anche attività mineraria diciamo abbastanza massiccia direi abbastanza inquinante come tutte le attività minerarie soprattutto nei paesi in cui della dell'ambiente frega ben poco allora tutto questo non è fatto certo per non emettere co2 tutto questo è fatto per produrre energia anche a costo di distruggere l'ambiente perché abbiamo visto prima diciamo abbiamo visto prima con questa immagine anzi possiamo scendere un po ecco questa è recitazione che morirà perché non riceve più il sole e quindi quando ci saranno piogge intense come può capitare serve più spesso qui ci saranno frane l'acqua correrà il vedi laverà verso il fondo valle riempirà torrenti e fiumi e ci saranno le classiche alluvioni che già vengono in cina proprio normalmente dovuto alla pressione antropica perché dove non c'è il bosco è stato è stato dove è stato tolto il bosco per tanti motivi serve la legna da ardere serve lo spazio per agricoltura e in cina ci sono stati in passato alluvioni tremende con centinaia di migliaia di morti dove intere dighe sono crollate sotto la pressione dell'acqua e altri sono state fatte crollare appositamente prima che si riempissero troppo ecco quindi questo è un disastro annunciato perché una stupidità del genere beh probabilmente ci sarà qualche oligarca che si sarà arricchito ci sono anche lì eh perché tutto è controllato comunque dal partito e oppure ci sono fondi di magazzino avevano tanti pannelli la cina il maggior produttore magari gli invenduto l'invenduto i fondi di magazzino la realtà inventiamo lì su in montagna che un po di energia lo facciamo e poi possiamo strombazzare che noi aiutiamo l'ambiente usando i pannelli sonari in modo decisamente stupido nel senso proprio delle leggi di Carlo Cipolla nel senso che c'è qui diciamo il risultato sarà la morte di tutti questi 30 ettari di vegetazione e probabilmente anche quella circostante diciamo anche quella non coperta rischi di alluvioni nel fondo valle e quindi messa a rischio della popolazione delle cose e delle attività economiche che ci sono sul fondo valle che dire direi c'è poco altro da aggiungere direi questo è il classico modo più stupido di utilizzare i pannelli solari ho raccolto sul mio sulla pagina facebook sono tutti d'accordo non è non è una roba del genere non esiste e già in cina abbiamo trovato due esempi magari ce ne sono degli altri la cina è così grande che andare a cercare impianti del genere su google earth ci vuole la pazienza e il tempo ma se me li trovate segnalateli pure e anche perché comunque è più facile trovarli perché la cina si vanta di cioè ho trovato ci sono vari articoli del china daily in cui dicono ecco bellissimo guardate come l'innovo con l'innovazione noi combattiamo il il clima e l'emissione di co2 perfetto non è proprio così allora dopo vi metterò sotto nel link la mia pagina facebook su cui discuto poi le domande le potete fare anche lì vi metterò le coordinate dei due punti che sono stati per ora trovati e andiamo avanti comunque le prossime puntate con altri temi di ecologia temi ambientali e anche riguardo alla protezione civile uno dei primi appunti del per proteggere la popolazione proprio non disboscare perché è il bosco che protegge il il suolo tra con le radici trattenendo l'acqua queste cose si insegnano credo che si insegnano anche elementari oggi se non elementari alle medie ecco quindi è basico evidentemente però in cina se ne fregano dell'ambiente e degli possibili danni l'importante è utilizzare i fondi di magazzino per produrre un po di energia però è anche vero che la cena sta un numero di centrali nucleari elevate e intende aumentare si vuole arrivare sui 130 centrali nucleari e dovrebbe diventare il paese con più centrali nucleari al mondo dicevo addirittura avrebbe la maggioranza sarebbe adesso avrebbe più avrebbe in futuro più centrali di quante ne esistono oggi nel mondo quindi comprese le loro quindi diciamo ci sono chiari scuri ma io dico chiari perché sono favorevole energia nucleare usata come mix mica ci può pretendere di avere tutto nucleare però una parte un 20 per cento di energia base magari anche un vinticenza di vari eccessi francesi però quello ci vuole speriamo nei nuovi reattori ma diciamo gli scuri ecco quel caso questo caso che vi ho fatto vedere di questi pannelli messi in montagna 600 metri è circa più che montagna è collina molto alta ecco pre montagna questo è il caso proprio tra gli scuri chiari e scuri bene direi che ci vedremo la prossima volta intanto vi saluto e ancora la sigla grazie a tutti